bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video sono maullo941 e oggi siamo tornati su brawl stars signori torniamo con i video su youtube dopo un piccolo periodo di pausa perché per situazioni miei particolari però signori dopo un poco ritorno a giocare su brawl stars che decisamente era un bel poco e non lo aprimo infatti abbiamo un botto di cose da fare vedo brawler, vedo gratuite, pass che dobbiamo aprire addirittura ci mancano solamente 50 teschi per arrivare a 300 quindi oggi facciamo un sacco di cose 4 richieste di amicizia però signori miei prima di partire dal video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i leggerementi e per il supporto che lasciate a questa serie vi ricordo di seguirmi sui social soprattutto su instagram mi trovate con maullo941 e tramite le storie vi aggiornerò sulle live che farò sia su questa piattaforma che sull'altra quella viola ne usciranno sempre almeno una al giorno quindi signori no ho sbagliato detto questo non perdiamo tempo e partiamo con il video ok signori allora prima cosa andiamo in negozio io non ricordo benissimo come funziona brawl stars però ce la faremo gratuito abbiamo 9 punti per questa chiera 9 punti energia per jackie va bene così va bene speriamo in una cassa invece ci accontentiamo di 9 punti energia per jackie che non ci servono a nulla poi abbiamo abbiamo un brawler nuovo chi è un brawler nuovo già proprio jackie lei ok che sarebbe la l'operaia ok operai jackie sarà la nuova operaia sono nominata già tank non la chiameremo l'operaia poi abbiamo quattro richieste d'amicizia che sono di caffeder accettiamo Gabri Gamer accettiamo Derin Yalmaz accettiamo e Tomar accettiamo ragazzi il mio ID lo vedete da sinistra mandatemi le richieste d'amicizia vediamo se qualche volta riusciamo a organizzare anche una live su brawl stars signori e possiamo vedere di giocare eventualmente tutti assieme abbiamo un brawl pass che sinceramente è una cassa brawler mi vado apri no ne abbiamo due addirittura signori apriamo le casse così come se non ci fossero domani subito a inizio video monete per noi punti energia per il nostro bombardino l'ubriacone l'ubriacone di roma e punti energia per colto ovvero per il nostro little tony che però nessuno sale di livello interessante va bene va bene va bene molto povera questa cosa abbiamo una cassa enorme che mo ci andiamo ad aprire pure signori così diretti senza se senza mano 90 monete d'oro bella così punti energia per il re misterio che sale di livello potremmo migliorarlo potremmo farlo punti energia anche per il nostro ubriacone altri 14 che però non lo fanno aumentare di livello e punti energia anche ancora per revolver addirittura 50 porca miseria lo posso migliorare pure lui tanti punti energia pochi brawler da prendere va bene abbiamo anche delle missioni vinci tre partite in football brawler causa 60.000 punti perfetto ok allora dobbiamo fa tutto con con il messicano pazzo signori dobbiamo fare tutto con il messicano pazzo come si fa più a messi con pazzo messicano pazzo dove stai qua perfetto si selezioniamo il messicano pazzo andiamo a sbloccare gli eventi che forse già riusciamo a raggiungere no di poco e robo assalto sarà libero fra quattro giorni noi non dobbiamo andare a giocare dobbiamo andare a vincere tre partite a calcio signori dobbiamo riuscire a vincere tre partite a calcio e fare 60.000 danni con il messicano pazzo sento che ce la possiamo fare allora io non ricordo bene come si gioca però ci possiamo trovare dove siamo noi ah noi tiriamo ah perché ricordavo no è l'ubriacone che tira il già abbiamo segnato un gol va bene va bene non ho fatto assolutamente niente in questa prima partita devo fare danni come se non ci fossero domani e non sto a fare nulla dai così dai così uccidi tutti dai così indossare il pallone indossare il pallone indossare il pallone dai 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 che facciamo una botta di danni 2 a 0 palla al centro partita conclusa a posto la prima partita l'abbiamo vinta signori va bene così mamma mia che cosa povera va bene dai così vinci 5 partite no vinci 8 partite vinci 5 partite ma che paranoia come 5 partite io ne avevo letto solamente 3 partite non 5 intanto abbiamo sboccato il nuovo pass che andiamo a aprire subito perché tanto sono le monetine che non ci fa niente non ce ne frega altrimenti niente di queste monetine va bene ok ma le missioni scusatemi non devo vincere ah vinci 3 partite in bravo ok ok avevo letto bene avevo letto bene per un attimo ho detto che cazzarolo ho letto ok seconda partita segniamo 2 gol quindi abbiamo beccato dei compagni di squadra paurosi praticamente dai così dai così che facciamo male a tutti dai così dove stai andando te zio devo uccidere tutti non mi interessa devo anche fare danni in una maniera paurosa dai 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 che i nostri compagni di squadra se ne stavano andando libero sulla fascia dai 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 questa partita mi sa che sarà più lunga dove stai andando zia dove stai andando dove stai andando dai dai recupero il pallone dai 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 ti copro le spalle ti copro le spalle se riesco a camminare ti copro le spalle dai 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 un altro messicano un altro messicano primo gol va bene va bene così un po' di confusione però va bene dai 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 così dai così dove sta andando quello ma come si permette dai bombardino dai bombardino ti copro le spalle ti copro le spalle No, veramente dobbiamo coprire No, levati, levati Ai, ai, ma guarda questo Mannaggia a lui E a chi non glielo dice pure, dai che abbiamo preso la palla Dai che andiamo a segnare Dai messicano sulla fascia, no, ci hanno ammazzato Mannaggia a loro Mannaggia a loro e a chi non glielo dice pure Dai, 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 dai Ripartiamo dalla nostra area di rigore Dai, 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 dove sta il pallone Pensate che il pallone però non c'era nessuno Dove sta il pallone, signori? La vedo una serie di scontri all'ultimo sangue Dai così, dai così, dai così Dai, che cazzarola Eh dai, ma porca di una paletta Ambriaca Sto durando assai Ma noi riusciremo ad avere la meglio, lo sento Noi riusciremo ad avere la meglio Lo sento Quella lì ha rotto le scatole Devi morire male Ok, l'abbiamo uccisa L'abbiamo uccisa, spero di aver fatto tanti punti Signori, perché se non è così Lo fermi Perché li sto correndo dietro al messicano pazzo Recupera il pallone Recupera il pallone Bello così Palla nostra Palla nostra Ci rendiamo sulla fascia Ripriamo tutti Nessuno si accorge di noi Aspetta, aspetta Passiamo di qua Passiamo da dietro i birilli Entriamo in aria Attenzione Il tiro È gol Il messicano pazzo, signori Fa il 2-0 E la porta a casa Il migliore è stato Spike Va bene Non ha importanza L'importanza è Sarci portati a casa la partita Va bene così Dai così Con le coppe che arrivano Dai così In corso 7 Completate 0 Che paranoia 25 partite Va bene, dai Ultima partita, signori Vediamo di portarci a casa Per l'ultima partita Siamo a 493 coppe Dai, dai che ci arriviamo a 500 Questa volta a 500 ci arriviamo Non devo fare riflessioni Che compagni di squadra abbiamo? Non ne conosco nessuno Tutte e due Dove siamo noi? Allora abbiamo un bombardino Che già la vedo male Come partita E questa cosa Non è per niente buona Non so dove sia il pallone Abbiamo il super colpo Ma siamo anche palesemente morti Quindi cortesemente Mi fate recuperare un attimo di vita Grazie Gentilissimi Voi dovete morire tutti quanti No, siamo morti noi Voi dovete morire tutti Siamo morti noi Va bene così Va bene così A me basterebbe che i miei due compagni di squadra Trovassero anche loro il gol No, un gol l'abbiamo fatto signori Un gol su tre partite l'abbiamo fatto Dico E non è male come cosa No, 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 no Devi morire, devi morire, devi morire, devi morire Perché non gli spari? Mannaggia Ok Uno l'abbiamo ucciso Reguliamo il pallone Via, 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 via Sulla fascia Sulla fascia Dai così Dai così che non ci vede nessuno Dai così Dai così che siamo invisibili Siamo invisibili Siamo invisibili Guardalo, guardalo Uno a zero Il messicano pazzo La segna lui Con un centi... Con un millimetro di vita signori Con un millimetro di vita E dai ammazzati tutti Dai così, dai così Dai così, dai così Tanto ora li spuntano di qua E noi li ammazziamo tutti malamente Dai, 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 dai Allora, i miei colleghi sono morti Ok, i miei compagni di squadra sono morti Il tizio li sta volando Non si capisce perché Bombardino voleva farmi la finta Ma... Ui, addirittura Riuscite a tirare Via questa palla signori Via questa palla Noo, siamo morti Ma porca Grande, grande, grande Il nostro compagno di squadra Che la lancia lunga La lancia lunga Vediamo se riesce Dai, 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 dai Ripartiamo, ripartiamo Quanto non sopporto Bombardino signori I miei abbiamo vinto 2 a 0 Mamma mia 3 partite 3 vittorie per 2 a 0 Siamo stati dei grandi E siamo stati anche i migliori noi Concludiamo in bellezza Concludiamo in bellezza Porca miseria 8 coppe per noi Vinciamo 3 partite Guadagniamo 100 teschi Va bene così Concludiamo Non riusciamo a fare nient'altro No Cosa minimo 10.000 danni No, 100.000 danni Non c'era anche quello Uh, per pochissima Non riusciamo a raggiungere questa Vabbè, lo faremo Nel prossimo video Signori Abbiamo raggiunto le 500 coppe Episodio molto fruttifero Signori Nuovo brawler sbloccato A chi abbiamo preso? Chi sei, zia? Jesse Dai così Dai così Che vanno avanti Poi le brawler Signori Jesse Il fucile energetico Jesse spara una sfera di energia Che rimbalza da un nemico all'altro Con la super Schiera una torretta Pucciosa Ma letale Schiera una torretta pucciosa Spettacolo Dai A forma di cane Voglio la torretta pucciosa Va bene Signori miei Allora Detto questo Io vi ringrazio Per guardare questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suggerimenti E per il supporto Noi ci vediamo Sempre qui Sul canale E per un prossimo contenuto Nei prossimi giorni Bella raga Ciao Ciao